Grazie Presidente, allora faccio la dichiarazione di voto per conto della maggioranza e voteremo a favore di questo ordine del giorno. Mi preme però intervenire perché questo attacco all'assessore Lemetti sinceramente non lo accetto, non mi piace questa personalizzazione. Le scelte che sono state fatte nel corso di questi anni, alcune difficili, alcune pesanti, dure, le abbiamo condivise, le abbiamo votate, riteniamo che parte, buona parte delle cose che abbiamo fatto erano corrette, altre le abbiamo riviste in corso d'opera per tutta una serie di ragioni, ma abbiamo cercato di fare il meglio che potevamo fare. Certo è che con il voto della maggioranza a questo ordine del giorno, ovviamente anche noi diamo un'indicazione molto precisa rispetto a quello che deve essere il futuro di questa azienda, per cui la maggioranza voterà a favore di questo ordine del giorno. Grazie.